Se ci date una mano, stiamo facendo un poco per tutti. Cosa ne pensi? È un po' dura. Guarda, abbiamo provato di tutto. Abbiamo votato giallo, rosso, abbiamo votato tutti e non è cambiato mai niente. Questa è l'ultima possibilità che abbiamo per cambiare qualcosa. O ci alziamo adesso o è finita. Perché l'Italia è fallita e loro stanno facendo pagare il loro fallimento a noi. O adesso o mai più. Ok? Grazie. Arrivederci. Ciao. Ecco come funziona qui al presidio di via Armistizio. I forconi, i cosiddetti forconi, fermano le macchine che comunque rallentano la loro corsa spiegando agli automobilisti cosa succede e perché sono qua. Chiudo di San De Grunde circa su avvilità. Carmi funcioni. Ride ediyorum. Non, fine. Certo perché non è un man